Buonasera, ben trovati per questo incontro che mi auguro si possa essere di vostro interesse. Chiedo una grossa cortesia a tutti, c'è una necessità tecnica che ognuno di voi spenga il microfono e la telecamera, quindi siccome vi vedo in parecchi video e questo poi crea problemi alla regia, gentilmente ripeto, telecamera disattivata e microfono disattivato. Grazie, vedo ancora Luciano se gentilmente, Ivan se potete spegnere la telecamera, molto bene, Luciano, ok, Luciano, Luciano se ti è possibile, vedo che ti stai dando da fare e lo apprezzo molto. Ok, regia, io continuo a vedere Luciano se gentilmente potete inquadrare il sottoscritto in maniera tale da avere la visibilità su tutto. Niente, continuo a vedere Luciano, vabbè, io direi cominciamo pure, intanto che gli ultimi ospiti che si sono uniti, ripeto, provvedono a spegnere telecamera e microfono, io direi di introdurre la serata. Innanzitutto mi presento, sono Sergio Ronconi, sono in Mediolanum dal 1992, quindi fondamentalmente da sempre, a 26 anni mi sono laureato, mi sono sposato, ho finito il militare da carabiniero ausiliario e ho iniziato a lavorare in Mediolanum. Sposato felicemente con Ela, con tre figli maschi e ho il piacere di fare questa attività da quasi 30 anni e ho il piacere quindi di seguire clienti da oltre tre decenni, da quasi tre decenni e il piacere poi di, nel tempo, di avere preso per mano, dal punto di vista finanziario, anche il futuro dei loro figli. Quindi questo per me è un motivo di grande gioia. Vorrei salutare anche i clienti e gli ospiti dei colleghi Bulla, Alfredo e Comini Antonio che hanno aderito alla serata e all'iniziativa, quindi un benvenuto anche per loro e ai loro clienti. Vorrei introdurre l'argomento introducendo quello che è la figura professionale nostra, mia, del collega Bulla, del collega Comini Antonio. Noi lavoriamo nel private banking. Il private banking è sostanzialmente l'assistenza finanziaria che viene data ai clienti ad alte potenzialità patrimoniali che hanno spesso anche esigenze in continua evoluzione e anche esigenze complesse. Da questo punto di vista il private banking si è evoluto in un'attività che oggi viene definita di wealth management, quindi di gestione patrimoniale, di pianificazione patrimoniale. Ed è per questo motivo che il tema di questa sera per me è di straordinaria importanza, perché nel nostro patrimonio ci sono sicuramente la liquidità, quindi gli investimenti. Nel nostro patrimonio ci sono le partecipazioni, le opere d'arte, il Van Gogh che tutti noi costudiamo in casa, ma ci sono anche e soprattutto i beni immobiliari. Inviterei ancora a spegnere le telecamere, Beppe, gentilmente, e anche tutti quei pochi che tuttora li hanno attive. Benissimo. Quindi vi dicevo, la gestione del patrimonio immobiliare è strategica in quanto parte fondamentale, importante del nostro patrimonio. Qual è la situazione del mercato immobiliare in Italia? Vi do un dato, il 20% del patrimonio immobiliare addirittura è stato costruito prima del 45%, il 40% dal 45% al 72%. Dal 2016 ad oggi, venendo ai tempi recenti, stiamo parlando solo del 3,8% del patrimonio immobiliare, quindi sostanzialmente il patrimonio immobiliare nostro è un patrimonio vetusto. Per quanto riguarda l'efficienza energetica del nostro patrimonio immobiliare, rispecchia la vetustà del patrimonio immobiliare. Voi pensate che il 35,6% in classe G, il 25,4% in classe F, sostanzialmente abbiamo in classe A solo il 5% delle nostre abitazioni e sommando la classe A, B e C, quindi quegli immobili che hanno un minimo di efficienza energetica, arriviamo a malapena un 11-12%. Quindi è evidente che c'è veramente tanto da fare. Qualche'è importante la riqualificazione degli immobili? La riqualificazione degli immobili dà vantaggi di diversa natura. In primo luogo sono la riduzione dei consumi. Una casa indipendente che passa da classe G a classe C, ad esempio, ha una riduzione di oltre il 60% dei consumi annui, quindi parliamo di 4.000 euro all'anno, che diventano decine di migliaia di euro negli anni. Una viletta schiera da classe F in classe A1 ha un risparmio di 2.000 euro all'anno da un punto di vista dei consumi. Un appartamento da classe A a classe B ha un risparmio annuo di 1.200 euro all'anno. Quindi il consumo e quindi il risparmio dal punto di vista dei consumi è chiaro che proiettato nel tempo fa una differenza molto importante e questi sono tutti i denari che magari è bene investire in altre situazioni piuttosto che in bollette gonfiate. Io sono un fan del super bonus, io sono un fan del super bonus, chi mi conosce lo sa bene e il motivo è che dovendo aiutare il cliente nelle scelte strategiche orientate a valorizzare il suo patrimonio non può esserci un'opportunità migliore che non sfruttare al meglio questo tipo di beneficio. Questo tipo di beneficio dà tre grossi vantaggi. Un incremento del valore dell'immobile, quindi si stima che un immobile riqualificato da un punto di vista energetico possa valere da un 2 a un 10% in più. Un incremento di canoni potenziali nel momento in cui l'immobile venisse dato in affitto, quindi parliamo da un 2 a un 8% in più di canoni d'affitto. Infine una riduzione dei tempi di vendita, perché un immobile riqualificato viene venduto dai 4 agli 8 mesi in tempi più rapidi e tra l'altro, come vi dicevo prima, anche ad un prezzo più alto. Quindi la riqualificazione dell'immobile è un gesto di amore nei confronti del nostro patrimonio, nei confronti dei nostri cari, nei confronti di una gestione patrimoniale ben fatta che deve andare a sfruttare tutte le opportunità che ci vengono messe a disposizione. L'altro aspetto che forse non è chiarissimo è come il 110 si inserisce in un contesto internazionale, in un quadro internazionale che riguarda il trend di sostenibilità. Ecco, chiedo a Lorenzo, gentilmente, che ho visto che si è collegato, di spegnere anche lui la telecamera per un'esigenza di natura tecnica. Vi dicevo, il quadro del trend della sostenibilità è un trend che... Scusate che mi dicono, non sento... Ok, no, ho visto in chat, non sento, però non ho altre comunicazioni dalla regia, quindi presumo che il problema sia limitato a Mauro. Quindi vi dicevo, il quadro del trend della sostenibilità è un trend che parte da direttive strategiche stabilite in Europa. In particolare il Green Deal europeo è un insieme di iniziative che sono volte a portare l'Europa alla neutralità climatica entro il 2050. Vuol dire che entro il 2050 l'impatto a livello climatico dei paesi appartenenti all'Unione Europea deve essere zero. e gli obiettivi chiave sono differenziati sugli assi temporali. In particolare entro il 2030 l'Europa ha un obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni di gas effetto serra, del 32%, l'introduzione del 32% di energia rinnovabile e un miglioramento di almeno 32,5% dell'efficienza energetica. Quindi sostanzialmente il quadro strategico dell'Europa prevede la decarbonizzazione del settore energetico. In questo momento il 75% della produzione dell'energia produce emissioni a effetto serra. Prevede l'utilizzo da parte dell'industria di materiali riciclati, che in questo momento pesano solo il 12%. Prevede una riduzione del 25% delle emissioni relative ai trasporti e in particolare arriviamo a noi una ristrutturazione ed un efficientamento degli edifici che rappresentano il 40% dei consumi energetici. Quindi gli investimenti da qual 2030 saranno di 1.000 miliardi, anche il 30% del recovery fund è destinato a questo tipo di iniziative. Questo per dire che anche il super bonus deve essere inquadrato in questa traiettoria che ha la comunità europea, in queste scelte strategiche che sono state fatte, che ci accompagneranno. Quindi il super bonus non è un'iniziativa a sé stante, ma è nell'ambito di questo trend di sostenibilità che è portato avanti anche a livello europeo. Il titolo è, vedo Spillo, ciao Spillo, grazie della tua presenza. Spillo ti chiedo gentilmente di spegnere la telecamera e come chiedo anche a Silvano gentilmente di spegnere la telecamera. Quindi vi dicevo, super bonus, sogno realtà. Io ho introdotto il convegno sui post dicendo coloro che sognano occhi aperti sono a conoscenza di molte cose che sfuggono a chi sogna dormendo. Questo perché è sicuramente un sogno pensare di realizzare un efficientimento energetico degli immobili a costo praticamente zero. È un sogno realistico, ma è anche un sogno difficile, è un sogno complesso, è un sogno di non facile attualizzazione, ma è un sogno, ripeto, realistico possibile. Non dobbiamo farci scoraggiare, è un sogno che dobbiamo perseguire attraverso dei processi di conoscenza, delle norme, delle regole e dei canali che ci possono portare a realizzare i nostri sogni. Il sogno cosa può essere? Può essere una casa più efficiente, quella dove viviamo, ma può essere anche l'acquisto in funzione dei figli, prendere un immobile che ha bisogno di essere riqualificato e ristrutturarlo sostanzialmente a costo zero o quasi. Può essere la casa al lago, la casa in montagna. Quello che vi voglio dire e quello che vorrei è che alla fine di questa riunione ognuno di voi potesse avere gli strumenti per cominciare a coltivare il proprio sogno e con l'obiettivo di realizzarlo nei prossimi mesi. Io introdurrei quindi l'ospite di questa sera, il dottor Giampiero Gugliotta, dottore commercialista e pubblicista del Sole 24 Ore, col quale ci interfacceremo con un botta risposta sull'aspetto normativo per poi andare anche nel concreto su quelle che sono delle domande che ci sono pervenute via email e quindi in maniera molto dinamica riuscire a tracciare un percorso che possa essere di utilità ai nostri spettatori. Gianpietro, buonasera. Buonasera a te Sergio, buonasera a tutti. Molto bene, come stai? Tutto a posto? Sì, sì, abbastanza bene, grazie. Bene, cosa ne pensi del Superbonus? Sei anche tu un entusiasta, un fan come il sottoscritto? Ma sono un entusiasta per due ragioni. Uno perché è un'opportunità per tutti e poi anche perché a differenza dall'inizio dei lavori, ora a distanza di 9-10 mesi dall'emanazione della normativa, diciamo che comunque il mondo professionale e gli operatori di settore stanno cominciando a capire bene di cosa si tratta e quindi stiamo entrando nel pieno dei lavori e dell'implementazione di questo 110. Quindi sì, sono un entusiasta. Benissimo. Gianpietro, io anche oggi sono andato da un cliente importante che deve ristrutturare la sua villa e il suo architetto gli ha detto no, no, lascia stare il 110, è troppo complicato, facciamo il 65. Non è che c'è qualche professionista che ha poca voglia di studiare e di lavorare? Cosa ne dici? Sì, guarda, probabilmente appartiene questo professionista, appartiene alla categoria che tu definisci Lazzarone. Probabilmente non ha molta voglia di studiare perché... Allora, il 110 è una materia estremamente complessa perché, come ho avuto modo di definirla ad altri convegni che ho fatto proprio con l'Ordine degli Ingegneri di Milano, è una di quelle poche discipline di respiro interprofessionale, nel senso che la normativa 110 abbraccia una serie di competenze tecniche, ma mi riferisco quindi a quelle degli ingegneri, architetti, geometri, eccetera, piuttosto che fiscali, quindi dei professionisti come me, e di esperienza nel settore edilizio che appunto non sono in mano di un unico soggetto. Perciò, ecco, allora diventa veramente importante fare network e quindi, a prescindere dalla battuta dell'Azzarone prima, riesce ad implementare bene il 110 che ha fatto gruppo, chi è riuscito a creare un network ed avere tutte le professionalità che servono per implementare il 110%. Benissimo. Io direi, Gian Pietro, cominciamo a introdurre l'aspetto normativo. Quindi, vediamo al di là delle casistiche specifiche i beneficiari. Sì, allora, va bene, giusto per dare un riferimento normativo, sappiamo che il bonus 110% è stato introdotto dall'articolo 119 del DL34 del 2020, il cosiddetto decreto rilancio, no? Poi ci sono stati degli emendamenti, l'ultimo è stato effettuato dalla legge di stabilità per il 2021. Cosa prevede questo bonus 110%? Insomma, sostanzialmente il legislatore con questa nuova norma è andato a potenziare la percentuale di detrazione, perché diciamo il 110% si applica sugli interventi di eco bonus, elegibili per l'eco bonus e per il sisma bonus. E questi interventi c'erano già prima, non è che sono stati introdotti adesso, da maggio 2020, con il decreto rilancio. Con il decreto rilancio è stata solo potenziata la possibilità di detrarre. Quindi siamo passati dal 65%, lasciami dire, dell'eco bonus, al 110% attuale del super eco bonus. Perché poi il super bonus si divide in eco bonus e sisma bonus, noi sappiamo, no? E poi ha delle particolarità, perché appunto per fare il 110% bisogna effettuare degli interventi trainanti e degli interventi trainati. Bisogna comunque, se stiamo considerando di fare un intervento eco bonus, bisogna almeno aumentare la classe energetica dell'edificio di due classi, o comunque raggiungere la classe maggiore, quindi la classe A. Se parliamo di sisma bonus dobbiamo comunque riuscire ad ottenere un miglioramento del rischio sismico. Quindi questi sono i presupposti. Non che poi c'è una serie di adempimenti proprio che vanno fatti. Il primo, mi riallaccio a quello che dicevamo prima, è una verifica di conformità degli edifici, perché noi sappiamo che se ci sono abusi edilizzi, proprio il testo unico dell'edilizia, se non vado errato, all'articolo 49 dice che non è possibile appunto usufruire di bonus fiscali qualora visione delle uniformità edilizie. Benissimo. Giampietro, io direi, facciamo un passo indietro, facciamo un po' di ordine. Allora abbiamo detto beneficiari fondamentalmente persone fisiche e condomini, ok? Quindi smarchiamo persone fisiche e condomini. L'impresa, la partita IVA, non c'entra, ok? Secondo aspetto, che titolo devo avere io per godere della detrazione? Sì, fermo restando appunto i soggetti che hai detto tu, quindi persone fisiche piuttosto che condomini, il titolo che devo avere è essere proprietario dell'immobile. Ok, oppure? Se non sono proprietario dell'immobile devo avere, diciamo, un diritto reale di godimento sull'immobile, quindi devo avere comunque uno su frutto, devo avere un comodato, devo avere un contratto d'affitto. Questo mi dà la possibilità, mi dà il requisito soggettivo per potermi avvalere del 110%. Perfetto, ti faccio subito una domanda che è arrivata. Convivente, casa intestata alla compagna, il fatto di abitare ti dà titolo come se tu fossi? Sì, è proprio previsto dalla... è stato tra l'altro chiarito dalla Circolare 24 del 2020, quindi sì. Benissimo, questo era Massimo che ce l'ha chiesto. Quindi, ricapitolando, beneficiari persone fisiche e condomini, titolo, qualsiasi titolo, quindi che io abbia la nuova proprietà, l'uso frutto, la proprietà esclusiva, un contratto di affitto, un comodato d'uso, o semplicemente... Registrato, comodato l'uso, mi raccomando. Registrato, benissimo, o semplicemente abito la casa perché è quella della mia compagna, questo è un requisito soggettivo sufficiente. Andiamo sui requisiti oggettivi degli immobili. Che tipo di tipologia, che tipologia di immobili è interessata dal Superbonus? Allora, le tipologie di immobili, rimanendo nell'ambito che stiamo analizzando, quindi relativamente alle persone fisiche e ai condomini, perché poi sappiamo che sono un'associazione sportiva, eccetera, ma è un mondo che oggi non ci interessa. Esatto. E gli immobili che sono elegibili per il 110% sono i condomini e le unità unifamiliari, unità unifamiliari singole o in un contesto plurifamiliare, inserite in un contesto plurifamiliare. In più, con la legge di bilancio 2021 è stata inserita un'altra possibilità. Non è elegibile al 110% anche quegli immobili, diciamo cielo-terra, di proprietà di una persona fisica, che hanno da due a quattro unità immobiliari. Questo prima non era previsto, è stato previsto appunto con la legge di stabilità dal 1 gennaio 2021. E' possibile il 110% anche per questo tipo di immobili. Perfetto, quindi anche condomini da due o quattro unità familiari, anche se di singolo proprietario o gruppo, stesso gruppo di proprietari, quindi marito e moglie, e aggiungiamo anche che anche la presenza del commerciale, quindi della parte commerciale con una percentuale inferiore al 50%, non preclude l'accesso al super bonus, giusto? Sì, sì, ovviamente, però quando abbiamo una preminenza del 50%, del più del 50% di edifici residenziali, anche il commerciale è dritto al super bonus, ma ricordiamoci solo per gli interventi sulle parti comuni. Non per gli interventi... Ok, quelli trainati. Poi ci arriviamo. Allora, vediamo le novità. Abbiamo detto il beneficio che viene esploso al 110%, quindi addirittura 10 punti in più della reale spesa, e poi anche, abbiamo detto, una riduzione dei tempi di recupero, che passano dai 10 anni ai 5 anni. Queste sono le novità. Tempistiche? Mi confermi 30 del 6 del 2022, giusto? Sì, 30 del 6 del 2022 in generale, direi, come termine. Ricordiamoci però che questo termine del 36 del 2022 è stato previsto dall'avventamento della legge di stabilità, comma 66 dell'articolo 1. Ma ricordiamoci che il comma 74 dell'articolo 1 della legge di stabilità rinvia, diciamo, l'attuazione di questa proroga ad un'autorizzazione della Commissione europea, che ad oggi ancora non è intervenuta. Questo è un po' di cronaca, però interverrà sicuramente, però lo diciamo, ecco. Poi, il termine 36 del 2022, ricordiamoci invece che per i condomini, se c'è stato l'inizio dell'intervento del 36 del 2022, è stato effettuato il 60% dei lavori, diciamo così, di spesa, allora si ha un'estensione al 31-12-2022. Benissimo, benissimo. Poi ci sono gli ACP che hanno delle scadenze tutte loro, ma direi che in questa fase non ci interessa. Quindi, ribadiamo, 30 del 6 del 2022, non c'è ancora l'approvazione della Comunità europea, ma diciamo che è nell'ordine delle cose, condomini 31-12-2022, sempre che siano certificati il 60% dei lavori al 30 del 6. Ok? Al 30 del 6, perfetto, sì. Poi, presupporti, l'hai già citato prima, il salto di due classi dell'Ape. Vogliamo spiegare cos'è questa Ape? Sì, sostanzialmente l'Ape è l'attestato energetico, sostanzialmente, che deve essere lasciato da un professionista abilitato, e che, appunto, è quel documento che certifica la classe energetica del nostro edificio. Ed è fondamentale, perché sostanzialmente, senza questo Ape ex-ante, si chiama, non possiamo poi andare a misurare il salto di due classi energetiche. E quindi, diciamo, è il documento principe che ci serve per l'implantazione del 110%. Mi permetto solo di dare un ulteriore spunto su questo tema. Con la legge di stabilità è stato, comunque, di un altro principio, che per quegli edifici cosiddetti collabenti, cioè quelli che sono gli ultimi, F2 non è richiesto, appunto, l'Ape ex-ante. Ok, infatti rispondiamo a Tina, un rustico da ristrutturare, l'administrazione rientra nel bonus, correggimi se sbaglio, sisma bonus sì, super bonus efficientamente sì, solo a condizione della presenza dell'impianto. Certo, sì. Ok, qui abbiamo risposto Tina, quindi sì, super bonus senza condizioni, 96.000 euro, super bonus solo in presenza, perché viene richiesto l'impianto di riscaldamento? Perché se io devo andare a efficientare, devo andare a efficientare un qualcosa che già consuma, no? Sì, sì, ma in realtà è proprio perché, diciamo, è nella lettera della norma, la norma dice sostituzione di impianti di riscaldamento preesistenti, quindi c'è stato un chiarimento però, anche se è un impianto, diciamo, fatiscente, l'importante è che sia riattivabile e va bene per passare al 110%. Esatto, poi tra l'altro, Gian Piero, se non sbaglio, a sto punto anche la stufa, il caminetto, contribuisce al poter ridigere un'APE iniziale, giusto? Assolutamente sì, sì. Benissimo. Gian Piero, introduciamo il concetto a sto punto, questo efficientamento, faccio un'APE iniziale, attestato di prestazione energetica, simulo tutta una serie di interventi, perché l'APE finale, quindi l'attestato di prestazione energetica finale, post interventi, mi permetta di fare questo salto di due classi. Quali sono gli interventi favoriti e che quindi contribuiscono all'efficientamento energetico? Sì, allora, noi abbiamo detto all'inizio, ora lo diciamo meglio, ci sono due tipi di interventi, trainanti e trainati. Ricordiamoci questa partizione. Il trainante deve essere, almeno un trainante deve esserci per forza, perché è proprio una condizione sine qua non per avere la possibilità di accedere al 110%. Tra i trainanti abbiamo sostanzialmente il cappotto termico, quindi il rifacimento della superficie esterna disperdente superiore al 25% e un altro intervento trainante invece, che può essere fatto sugli uni familiari, sui condomini o sugli uni familiari inseriti in contesti plurifamiliari, è la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale. Questo è l'altro trainante. Ultimo trainante è il sisma bonus, quindi interventi atti a migliorare la classe sismica delle fiche. In questo caso non dobbiamo guardare a salti di classe energetica, ma dobbiamo soltanto guardare al miglioramento sismico. Benissimo. Questo per i trainanti. Andiamo ai trainati. I trainati è molto più complesso, ma semplifico. Tra i trainati rientrano tutti gli interventi previsti dall'articolo 14 del DL 63 del 2013, che era il vecchio ecobonus. Quindi sistemi di building automation, sostituzioni di caldaie, condizionatori, eccetera, eccetera. Sono tutti là. Pure la sostituzione degli invissi, per dirvi, è un trainato che può essere fatto dopo che è stato implementato un trainante. Poi abbiamo invece, grazie all'introduzione prevista dal 119, quindi la norma del 110%, si possono aggiungere come trainati, quindi, imbianti fotovoltaici, fino a 20 kilowatt, ha chiarito l'Enea, che sarebbe la spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per ogni kilowatt installato, gli accumulatori a servizio dei pannelli fotovoltaici, la colonna per la ricarica dei veicoli elettrici, e sostanzialmente siamo arrivati. Ah, ultimamente, cioè, da ultimo bisogna citare che la legge di stabilità ha introdotto una possibilità, e questo è molto importante, perché consente di inserire come trainato un intervento volto alla rimozione delle barriere architettoniche. Questo vuol dire che si può mettere il mondo a carico, piuttosto che l'ascensore, in quegli edifici dove però ci deve essere un soggetto portatore di handicap, oppure delle persone che hanno più di 60 anni, o 25 anni di età. Però voglio dire, è un intervento che effettivamente è molto importante. Mettersi un ascensore gratis in casa è una spesa di non di poco conto. Benissimo. Quindi, ricapitolando quanto ci hai detto, Giampiero, noi abbiamo degli interventi trainanti, quindi che sono quelli che danno l'avvio all'intervento. Possono essere il cappotto, piuttosto che la centrale termica, sostanzialmente. Se faccio questi due o uno di questi due, a quel punto abilito anche gli interventi trainati e quindi posso intervenire sulla distribuzione, ad esempio, del riscaldamento all'interno della cappa, i serramenti, il fotovoltaico, la batteria d'accumulo, la ricarica per gli autovicoli elettrici, che oggi magari non abbiamo, ma che fra dieci anni probabilmente tutti avremo in casa, e quindi vi raccomando, mettete anche la colonnina di ricarica, e tutti questi interventi dovrebbero poi contribuire ad avere questo famoso salto di due classi del certificato energetico. Possiamo, Giampiero, spiegare anche un attimo meglio il concetto di casa funzionalmente indipendente e di parti comuni di condominio, perché ci sono situazioni, chiaramente, dove i clienti hanno delle case, e come fanno capire se possono intervenire da soli o se hanno bisogno di coinvolgere anche i vicini di casa. Spieghiamo il concetto di casa funzionalmente indipendente. Sì, allora, la definizione di casa funzionalmente indipendente è stata posta all'inizio, nel DM 6 agosto del 2020. Poi però, siccome non era proprio inappellabile, ci sono stati dei chiarimenti che sono intervenuti poi con la legge di stabilità, sostanzialmente, da ultimo, ancora prima, con la legge di conversione del DL 34 del 2020. Detto questo, oggi abbiamo un concetto abbastanza chiaro di abitazione unifamiliare e quindi funzionalmente indipendente e con accesso autonomo alla strada, perché sono due i requisiti. Quindi funzionalmente indipendente è quando ha almeno tre impianti autonomi, dove per tre impianti sono gas, luce, acqua e climatizzazione, dove abbiamo tre di questi impianti autonomi, siamo in presenza del concetto funzionalmente indipendente. Quindi abbiamo smarcato il primo. Per quanto riguarda l'accesso autonomo alla strada, anche qui il concetto è stato ampliato. Prima bisogna avere un accesso autonomo alla strada di tipo esclusivo, ora invece va bene anche di tipo non esclusivo. Quindi, facendo riferimento alle villette a schiera, per dirci, se si affacciano tutte su una strada che è privata e che porta alla strada comunale, in ogni caso, trattandosi di un accesso alla strada anche non esclusivo, va bene lo stesso e quindi è soddisfatto anche l'accesso autonomo alla strada. Quindi con questi due elementi, funzionalmente indipendente, con i tre impianti indipendenti, piuttosto che con l'accesso autonomo alla strada, siamo in presenza di un'unità unifamiliare indipendente che può vivere di 110 ex se, senza fare riferimento a condomini. Diversamente, invece, se parliamo di condomini, per condominio si intende un edificio dove vi sono almeno due proprietari. quindi se abbiamo un edificio con due appartamenti che però sono di proprietà di un unico individuo, questo non è un condominio. Ora, comunque, anche questo soggetto può fare diciamo il 110, visto la modifica che è stata introdotta dalla legge di stabilità, quindi da due a quattro unità immobiliari di un unico soggetto abbiamo visto che sono state sdoganate per il 110. Però in realtà, senza questa norma, prima dovevamo per forza avere un condominio quando parlavamo di abitazioni non autonome, non indipendenti. E il concetto di condominio si ha quando appunto ci sono più di due proprietari. In più, gli interventi trainanti devono essere fatti sulle parti comuni dei condomini e per parti comuni andiamo a intendere quelle parti che sono sostanzialmente disciplinate dall'articolo 1117 del Codice Civile e sono sostanzialmente tutte le parti comuni, quindi suolo dell'edificio, tetto, scale, tutto quello che è di utilizzo diciamo, di utilizzo comune. E in più, tutti gli impianti di utilizzo comune fino all'ingresso alla singola abitazione. Queste sono, diciamo, le parti comuni per capirci. Comunque, la definizione si trova proprio nell'articolo 1117 del Codice Civile. Benissimo, quindi abbiamo una casa funzionalmente indipendente, posso accedere al centro 10 senza problemi, ho un appartamento o il condominio, tutto passa attraverso una delibera condominiale, dell'assemblea condominiale, dove si autorizzano determinati interventi e in particolare dove si autorizza almeno uno degli interventi trainanti, capotto piuttosto che impianto centralizzato. A quel punto cosa succede? Il condominio autorizza l'intervento trainante, cosa posso fare? io singolo proprietario dell'appartamento in condominio una volta che il condominio ha autorizzato il super bonus sulle parti comuni? Se sono appunto un edificio residenziale, diciamo così, se sono un edificio residenziale posso fare tutti quegli interventi che sono classificabili come interventi trainati e quindi quelli che abbiamo detto prima, tutti quelli di efficientamento energetico che rientrano nell'articolo 14 del DL 63 del 2013 compresi gli infissi quindi per rispondere a una domanda che ho visto prima passare in chat piuttosto che l'installazione di pannelli fotovoltaici ma la vedo dura su un appartamento insomma però sarebbe comunque un intervento trainato se si potrebbe fare piuttosto che l'installazione della colonnina questo si può fare e questi sono appunto gli interventi trainati che il singolo può fare sostanzialmente benissimo quindi ricapitoliamo riscaldamento centrale termica e cappotto trainanti questi qua mi vanno a abilitare i trainati quindi fotovoltaico serramenti colonnina per capirci i imbiandi di building automation piuttosto che che ne so a certe condizioni anche il condizionatore può rientrare tra i trainati ecco perché comunque a quel punto il condizionatore che diventa con bomba di calore che diventa un impianto di climatizzazione infernale con bomba di calore anche se singolo rientra in quegli interventi di quella pro 14 che dicevamo prima del DL 63 2016 quindi anche il condizionatore io se è bomba di calore posso trattarlo come trainato e andarlo a sostituire nel mio appartamento se appunto il condominio ha fatto l'intervento trainante che mi ha concesso la possibilità di accedere al 110 ok però per fare chiarezza stiamo parlando di un condizionatore da pompa di calore che mi fa caldo freddo ok che fa caldo freddo e che abbia un requisito classe A più 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 e insomma ecco siamo è abbastanza circostanziata la fattispecie perfetto numero di appartamenti numero di unità sui quali posso fare l'intervento quanti sono spieghiamo bene questo concetto allora la cosa adesso si è un po' complicata con questa nuova norma della legge di stabilità comunque il numero di unità di unità su cui si può usufruire del 110% è 2 ok invece non c'è nessun limite per l'accesso diciamo al 110% per le spese sulle parti comuni condominali quindi vuol dire che se io ho appartamenti in 10 condomini posso prendere per le parti comuni il super bonus 110% anche su 10 condomini per la mia parte in base ai millesimi per gli interventi trainanti se invece sono proprietario di edifici unifamiliari al massimo 2 benissimo quindi si è stato chiarissimo quindi io ho 10 appartamenti in 10 condomini che fanno il super bonus con gli interventi trainanti aderisco a tutti i 10 il problema non esiste se però a un certo punto dico faccio il trainato perché sostituisco anche gli infissi di casa mia a quel punto mi sto giocando uno dei due jolly che ho per i trainati delle unità familiari quindi siamo al di fuori del concetto delle parti comuni ecco ci tengo su questo aspetto però di spiegare che ne abbiamo due a testa quindi due io due mia moglie due mio figlio due mio papà due mia mamma quindi in realtà stiamo parlando di un qualcosa che in famiglia può assumere anche delle dimensioni assolutamente importanti vediamo anche prima di entrare nel merito proprio dell'operatività le novità che sono state introdotte con lo sconto in fattura e l'accessione del credito sì sostanzialmente allora abbiamo visto che storicamente la detrazione per i bonus edilizzi ripeteva detrazione uno se la portava dietro in dieci anni nella dichiarazione dei redditi la vera novità invece proprio con l'introduzione grazie all'articolo 121 del DL34 del 2020 della possibilità di optare si dice per lo sconto in fattura o per l'accessione del credito in questo caso vuol dire che in ipotesi 110% se io chiedo al mio fornitore lo sconto in fattura ci sta che effettivamente e quindi diventa un sogno faccio tutto il lavoro a zero perché perché comunque avrò uno sconto pari all'importo dovuto e a questo punto sarà il fornitore ovviamente che troverà le risorse finanziarie per finanziarsi sarà lui perché è previsto quindi accedere ulteriormente il credito ricevuto dal contribuente finale altra possibilità invece proprio l'accessione diretta del credito quindi chi fa l'intervento quindi il contribuente paga il fornitore quindi matura questo credito d'imposta e lo può cedere quindi alla banca o a un soggetto terzo e in caso diciamo rientra subito immediatamente di quello che ha speso senza aspettare di riprendersi la detrazione in 5 anni su questa cosa però vorrei aggiungere una cosa non l'abbiamo detta prima però potrebbe essere di interesse grazie con le modifiche interdotte alla legge stabilità gli interventi fatti nel 2022 vengono poi recuperati in 4 anni non in 5 certo corretto certo sì sì assolutamente assolutamente riprendiamo il discorso della struttura finanziaria mi tengo il credito in casa d'imposta lo vado a scontare perché ho capienza fiscale e quindi in giro di 5 anni pagherò meno tasse pari alla detrazione 2 trovo un fornitore che mi prende il credito come contropartita quindi io avrò una fattura spese 100 consegna di un credito pari a 100 saldo 0 a sua volta poi il creditore il fornitore lo userà con i suoi fornitori o lo porterà in banca terza eventualità vado dalla mia banca consegno il credito e quindi la banca me lo pagherà e introduco questo vedremo più nel dettaglio le banche mediamente il credito di 110 lo attualizzano a 102 quindi è 110 che matura a 5 anni bene o male l'offerta della banca è il ritiro a 102 però sulla struttura finanziaria dell'operazione ci ritorneremo un attimino dopo io direi abbiamo capito un attimino come funziona ok quindi ci stiamo informando abbiamo capito come funziona la domanda è ma adesso da dov'è che cominciamo perché si sente parlare di questo certificato di conformità urbanistica e di conformità catastale che è un po' il presupposto di tutta l'operazione è certo quello è il primo passo da compiere per i modi che dicevamo prima perché se ci sono difformità sull'edificio noi non possiamo accedere a nessun bonus fiscale e questo è previsto all'articolo 49 del testo dell'edilizia è vero però che il decreto semplificazioni ha portato una modifica al testo unico dell'edilizia dottor l'articolo 34 bis in questo articolo è previsto che se le difformità non superano il 2% della metratura diciamo dell'edificio sto semplificando non sono un ingegnere quindi semplifico comunque se non andiamo oltre il 2% di sforo della difformità ecco diciamo così rispetto a quelli che sono i disegni per capirci a quel punto comunque grazie a un'autodichiarazione dove diciamo che non scoriamo questo limite del 2% il 2% può passare come difformità e si può accedere comunque al super bonus benissimo vogliamo spiegare la differenza tra la conformità urbanistica e quella catastale sì cioè una riguarda il catasto ok sì è certamente documentale mentre invece quella urbanistica riguarda comunque il comune quindi permessi a costruire le licenze e così via quindi è più ci viene chiesto sono stative difformità esterne e non interne corretto io qua direi di no dipende dagli interventi giusto però in via di massima la difformità è difformità bisogna proprio dipendere dagli interventi perché per esempio se sto facendo gli interventi trainanti su un condominio certo non impatta non devo preoccupare delle difformità del singolo edificio del singolo appartamento perché quello è rilevante nel momento in cui vado a fare degli interventi trainati sull'appartamento insomma ma finendo che guardo soltanto ai lavori trainanti effettuati sulle parti comuni guardare soltanto alla conformità del condominio benissimo c'è un'altra domanda la quale penso di poter anche io introdurre la risposta la mancanza di abitabilità di abitabilità infizia rilascio di conformità urbanistica io direi che sono due cose completamente diverse sia l'abitabilità che l'agibilità riguardano lo stato salubre degli ambienti e non hanno a che fare con questi visti di conformità che sono ripeto di natura catastale e urbanistica io Gian Pietro se tu sei d'accordo ti lascerei un attimo perché vorrei introdurre la figura del termotecnico che è la figura chiave e stasera ho proprio la fortuna di avere tra gli ospiti Marco Mor che è un caro amico professione termotecnico è una figura professionale venuta proprio alla ribalta della cronaca grazie al super bonus loro in realtà esistevano anche prima sono un po' il braccio operativo da un punto di vista energetico del geometra dell'architetto noi generalmente ci siamo rapportati sempre con il geometra dell'architetto non sapevamo che dietro c'era un omino che gestiva tutto l'aspetto energetico oggi in realtà questo tipo di professionalità è diventata centrale buonasera Marco come andiamo? buonasera benone grazie tutto bene? tu sei un fan del super bonus? beh mi hai contagiato di brutto ci vuoi raccontare anche la tua esperienza in qualità di investitore so che stai facendo una bella operazione a livello personale motivato proprio da questo sogno che hai potuto coltivare si prendo spunto proprio dal titolo che hai messo all'incontro di questa sera il sogno penso di tutti è di poter avere di poter fare qualche cosa per i propri figli o comunque per goderlo in prima persona e poi lasciarlo ai figli questo super bonus essendoci dentro in prima persona mi ha consentito di fare una ricerca di mercato comprare un edificio sul lago e grazie per bonus sto cercando di io ho perso Marco mi dite se lo sentite gentilmente non si è sentato non si sente ok allora riprenderei con riprenderei con con Giampiero e chiederei gentilmente alla regia di invitare Marco a una riconnessione ok Giampietro ci sei? pronti ci siamo benissimo il termotecnico è impegnatissimo sai che è ricercatissimo e quindi ma è vero è vero tutti quelli che mancano sono i termotecnici perché mancano i termotecnici e se non è strano mancano i ponteggi per fare gli interventi perché nessuno aveva mai previsto di fare tutti questi lavori edili diciamo in un lasso di tempo così breve quindi tante volte mancano i ponteggi ah anche i ponteggi non solo i professionisti anche i ponteggi ma anche i ponteggi e i termotecnici però ci c'è abbondanza di commercialisti quello ah quelli sì quelli ci sono scolta Giampietro io vorrei spieghiamo il ruolo del general contractor che anche questa qua è una figura che ha preso notorietà proprio recentemente perché si è sviluppata così tanto che vantaggio ci dà il rapportarci con un general contractor sì il general contractor è una figura che è presente diciamo sulla scena del 110 in modo direi quasi invasivo e e giustamente direi io perché perché chi deve fare il 110 non può avere n interlocutori diventa difficile poi fare fare l'intervento e invece vale la pena avere un soggetto che si faccia collettore di tutti diciamo i costi quindi le spese relative all'intervento quindi costo del del professionista che fa il piano di fattibilità piuttosto che del direttore lavori piuttosto che dell'impresa che monta il fotovoltaico della ditta che fa il cappotto termico eccetera eccetera tutta questa attività di coordinamento diciamo è anche tecnica perché poi il general contractor in dante occasioni fa fa anche diciamo da si occupa di andare a fare i sopralluoghi di vedere se è fattibile l'intervento eccetera eccetera quindi anche questa parte di solito vengono svolti da questo soggetto che è una sorta è una sorta di appaltatore quindi general contractor che diciamo con globa fa fa dal collettore di tutti gli interventi e quindi è poi lui che fattura l'intero intervento al committente al contribuente all'utente finale diciamo così e questo semplifica perché così diciamo c'è un'unica fattura da asseverare e da avvistare dal punto di vista il visto di conformità e quindi c'è un'unica fattura da inoltrare alla banca per l'accessione del credito o piuttosto che appunto c'è solo un interlocutore a cui chiede lo sconto in fattura questo diciamo semplifica tantissimo il processo benissimo quindi grazie Gian Pietro general contractor una nuova figura non dobbiamo più interfacciarci con idraulico elettricista quello fotovoltaico ma con un con un singolo interlocutore che poi andrà a subappaltare ho la possibilità di avere lo svolgimento di tutti i passaggi burocratici e quindi di avere un interlocutore unico e Marco è ritornato in linea quindi chiederei alla regia di dare il volume a Marco ci sei Marco? sì benissimo molto bene ecco Marco eravamo rimasti la tua esperienza da fan realizzazione del tuo sogno? sì ecco la mia esperienza è quella di andare a cercare un edificio vecchiotto da sistemare e ristrutturarlo virtualmente gratis ovviamente tenendo conto dei massimali forniti dalla procedura del super bonus benissimo ecco ci puoi parlare relativamente agli interventi in particolare parlo di impianto di riscaldamento e raffreddamento quali sono le soluzioni che aiutano di più all'efficientamento energetico sì dunque il super ecobonus prevede la sostituzione degli impianti termici o con dei generatori tradizionali delle caldaie a gas o con delle pompe di calore o con dei sistemi ibridi che sostanzialmente un sistema ibrido è composto da una pompa di calore e da una caldaia abbinati costruiti in fabbrica specificamente progettati per funzionare insieme quindi con un sistema di regolazione che alterna il funzionamento tra la pompa di calore e la caldaia a seconda di determinate condizioni o climatiche o economiche quindi in base all'efficienza dei sistemi in base a quello che costa l'energia elettrica e il gas ecco tra l'altro abbinandoli a fotovoltaico una batteria ho anche l'opportunità di rendere molto virtuoso il meccanismo beh sicuramente l'abbinamento di una pompa di calore con un impianto fotovoltaico e con una batteria di accumulo fa sì che quasi tutta l'energia elettrica che serve per far funzionare la pompa di calore sia gratis quindi a quel punto la bolletta quasi si azzera se ho una pompa di calore pura se invece ho un sistema ibrido vuol dire che nel periodo in cui fuori fa più freddo interverrà ancora la caldaia a supporto della pompa di calore e allora consumo un po' di gas e un po' di energia elettrica per riscaldare la casa e per produrre l'acqua calda della doccia benissimo io Marco approfitterei della tua presenza per un paio di domande un po' tecniche che mi sono arrivate la prima è da parte di Jenny dice demolizioni ricostruzione con aumento volumetrico io ho un aumento del volume urbanistico e anche un aumento del volume netto riscaldato dice com'è che vado a attribuire le spese per l'ampliamento quando ho un certo ripeto incremento urbanistico di volume che è diverso rispetto all'incremento del volume netto riscaldato in ogni caso si applicano le stesse disposizioni del vecchio ecobonus che prevede che quando c'è un aumento del volume climatizzato bisogna fare una doppia contabilità tutto ciò che era riscaldato prima va nell'ecobonus tutto ciò che è nuovo non beneficia di nessun bonus lo paga tutto il cliente al 100% senza poter usufruire di nessun tipo di bonus quindi se ho capito bene bisogna andare a vedere dove faccio gli interventi se faccio un intervento in un ambiente che prima non era riscaldato o faccio un ampliamento tutto ciò tutte le spese imputabili dell'ampliamento sono fuori del super bonus ho capito bene? si è così ed è la stessa cosa che succedeva col vecchio ecobonus al 65% se io amplio la mia casa e la riscaldo tutta con un nuovo impianto la porzione regia scrivetevi pure amici in chat io ho perso Marco voi l'avete o l'avete perso tutti? mi ridate gentilmente perso mi ridate gentilmente Gianpietro Gianpietro ci sono benissimo ti ho detto che i termotecnici ci fa un tribulare dai non ce ne sono di storia ovunque giusto per continuare sulla falsariga del termotecnico insomma però è proprio così se si parla di ecobonus qualsiasi incremento di cubatura o di metratura anzi io farei riferimento alla metratura perché di solito si parla della metratura della superficie disperdente non rientra nell'aggevolazione quindi non si applica il 110 cosa diversa invece è nel caso di sisma bonus dove invece se c'è demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico questo rientra nel 110% in caso di sisma bonus però benissimo Gianpietro ti ruberei la parola qualche minuto per trattare anche la questione finanziaria che è quella di mia specifica competenza e quindi abbiamo visto in che casistiche può essere praticabile il super bonus quali sono le regole interventi trainati trainanti scusate facciamo due parole sui massimali visto che non li abbiamo citati Gianpietro sì possiamo fare assolutamente sì allora i massimali variano a seconda dell'intervento per capirci quindi se stiamo parlando di di interventi sui condomini variano a seconda dei condomini che diciamo convongono il condominio quindi avremmo che se per esempio parliamo di cappotto di cappotto termico abbiamo che fino a a otto condomini siamo a 40 mila euro di spesa moltiplicato per il numero dei condomini e oltre gli otto 30 mila euro di spesa nel caso di unità unifamiliare abbiamo 50 mila euro di spesa per il cappotto per il cappotto termico se andiamo invece a guardare la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale abbiamo 30 mila euro per 30 mila euro se non ricordo male perché sono andato a moro per per gli interventi sui condomini dove ci sono fino a otto condomini e scegliamo a 20 mila euro per gli interventi che vanno oltre gli otto condomini sì è così mentre invece se guardiamo al sisma bonus abbiamo un tetto di spesa che è 96 mila euro per tutti i tipi di interventi sostanzialmente se ritornando scusami che non l'abbiamo detto su la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per le unifamiliari invece abbiamo un tetto di spesa di 30 mila euro benissimo ecco io su questo aspetto vorrei dare un'informazione che credo importante è vigile la legge per la quale l'intervento maggiore assorbe l'intervento minore mi spiego meglio faccio una distribuzione di riscaldamento a pavimento devo quindi tirare sul pavimento e poi rifarlo è chiaro che in quel caso lì anche il rifacimento dei pavimenti per l'inserimento dell'impianto di distribuzione rientra nel super bonus quindi se gestito bene le opportunità sono veramente molto importanti regia direi se ho visto Marco collegato se potete passare ancora Marco che avrei ancora un quesito Marco ci sei? colgo io l'occasione per fare una piccola correzione sono andato a rivedere i limiti perché prima andavo a braccio abbiamo che sui condomini per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 20 mila fino a 8 unità 15 mila oltre le 8 unità giusto per dare il dato corretto benissimo quindi 30 mila unifamiliare da 2 a 8 20 mila oltre le 8 15 mila ci senti Marco? Marco non hai il microfono attivato regia puoi dare puoi dare attivare il microfono di Mor gentilmente deve attivare da solo scusami deve attivarlo in autonomia ah Marco devi attivare tu il microfono hai il microfono disattivato no se vuoi provare a ricollegarti Marco dai fammi questa cortesia grazie quindi Giampietto ti dicevo due minuti perché vorrei introdurre il discorso della struttura finanziaria quindi facciamo un esempio l'esempio semplice è quello che succedeva una volta ho i soldi pago l'intervento mi tengo la detrazione fiscale in carico e in 5 anni recupero questa detrazione pagandomi no tasse questo è il mondo che c'era fino ieri tuttora praticabile ipotesi 2 non voglio anticipare cosa faccio posso trovare due opportunità uno sconto in fattura quindi un'azienda che è disposta a farmi lavori con l'accessione dal credito oppure posso trovare una banca che mi fa un prefinanziamento io utilizzerò i soldi del prefinanziamento per pagare i lavori solo una volta che i lavori saranno pagati io potrò fare attivare tutta la procedura per l'accessione del credito a quel punto io ho già saldato cedo il credito e con l'accessione del credito andrò a chiudere la mia linea di prefinanziamento io ci tengo a darvi degli spunti operativi proprio concreti allora il primo è si trovano general contratto che fanno sconto in fattura io direi sì cominciano a esserci molte entità che si stanno proponendo con lo sconto in fattura diciamo che è più semplice trovare dei pacchetti integrati quindi il general contratto che dice ti faccio riscaldamento fotovoltaico cappotto cioè quindi dei pacchetti integrati e sono gli interventi di installazione se io ho un intervento più complesso dove devo tirare sui pavimenti rifare mettere riscaldamento a pavimento lì è un pochino più difficile perché le multi utility e tutti i generi di contratto che si sono si stanno presentando sul mercato si stanno strutturando per dare dei pacchetti di facile installazione e quindi ripeto ho esigenza di cappotto impianto fotovoltaico lì credo che googlando un pochino probabilmente le offerte cominciano a essere numerose sei d'accordo Gianpietro? assolutamente sì è proprio quello che hai detto sai cos'è che non va d'accordo? il cappotto termico con il resto degli altri interventi perché si fa fatica a trovare ad integrare diciamo con gli altri lavori proprio l'implementazione quindi il rifacimento del cappotto termico questo per secondo me per due ordini di motivi uno perché ci sono pochi operatori che fanno il cappotto termico e soprattutto e soprattutto ha quelle condizioni previste dal decreto ministeriale di agosto 2020 che poi è attuativo del bonus 110% quindi diciamo chi ha la capacità di fare il cappotto termico di solito di solito non mal si integra con chi vuole fare il general contratto perché è una questione di margini sostanzialmente ecco meglio di così non te la so dire ma siccome già è alto il cappotto termico allora il general il general contratto non ha interesse a portarsi in casa il cappotto termico perché prende i rischi e non prenderemo una nazione diciamo questo Gian Pietro l'ho verificato anche sul campo se è una villetta schiera una di familiare probabilmente i massimali sono tali da accontentare tutti è chiaro che se parliamo di ognuno di familiare importante si pone un problema anche di massimali diciamo che però in questo caso uno potrebbe anche trovare un general contractor che le fa tutta la parte energetica prendersi il cappottista che però deve lavorare in contemporanea perché gli interventi devono essere eseguiti nei stessi tempi e quindi fare l'accessione del credito per il cappotto e invece ottenere lo scontifattura per tutto il resto la mia esperienza diretta è che però tutto sommato cominciano a presentarsi diverse realtà che fanno questi pacchetti integrati basta aver voglia di googolare un pochino e anche Facebook Instagram fate degli appelli cerco azienda e vedrete che vi arrivano 2, 3, 10 risposte di aziende che si offrono però guarda su questo tema mi permetto di dare un'indicazione che secondo me potrebbe ritornare utile a molti soggetti c'è scritto pure un articolo sul Sole 24 Ore sul tema provate a fare il confronto fra bonus facciate e 110% perché siccome sull'unifamiliare è difficile che si riesca a stare nel limite di 50.000 euro per fare il cappotto termico se si rispettano i requisiti se si rispettano i requisiti per l'implementazione del bonus facciate quindi si hanno gli affacci sulla strada e si risiede nelle zone A e B quindi ad alta densità eccetera eccetera a quel punto forse vale la pena considerare il bonus facciate perché è vero che il bonus è riconosciuto il 90% ma non c'è limite non c'è massimale quindi vuol dire che per la villetta spendo 200.000 euro di cappotto termico per la villa insomma spendo 200.000 euro di cappotto termico col bonus facciato me ne riporta a casa 180 mentre invece con 110 ho un limite di 50.000 euro molto interessante molto utile io chiuderei l'aspetto finanziario con una questione tecnica che a volte mi viene chiesta dice ma la banca quando ti fa il prefinanziamento va a verificare il merito di credito la risposta è assolutamente sì cioè voi pensate che quando viene attivato un prefinanziamento sostanzialmente stiamo parlando di un prestito a 10 anni che va in preammortamento io quindi la rata in realtà dovrò andrà a regime solo a fine lavori in realtà poi cedo il credito quindi la rata non andrà mai a regime però quella rata di un prestito a 10 anni è quella che deve essere non superiore al 15% del reddito annuo quindi abbiamo un misurazione del merito di credito che è la metà rispetto a quanto richiesto con i mutui tradizionali che però esiste dopo se il cliente non ha merito di credito ma ha degli investimenti in banca è evidente che potrà mettere a garanzia quelli che sono gli investimenti l'interlocutore per l'accessione del credito ricordatevi non è la banca esterna a voi è la vostra banca perché nessuna banca sta cavalcando questa cosa qua con l'obiettivo di portarsi a casa i clienti e scusate il termine è un po' una scocciatura sta cosa qua la si fa nei confronti dei clienti che già ci sono in casa anche noi parlo di Mediolano ma a livello di policy chiediamo comunque almeno tre mesi di profondità del rapporto quindi un cliente che già abbiamo nel portafoglio a quel punto prendiamo in considerazione di fare l'operazione è chiaro che se ci fosse qualcuno che ha bisogno ci possiamo guardare dentro però in linea di massima il referente per l'accessione del credito è la propria banca dove ho un rapporto storico dove ho i miei investimenti e quindi mi può agevolare a costruire un'operazione finanziaria che mi permetta di avere questo prefinanziamento che andrà a essere istinto con l'accessione del credito se trovo l'azienda con lo sconto in fattura è evidente che non si pone neanche questo problema io ripasserei la parola a Marco che so che la telecamera è spenta perché ci sono questi problemi se però sentiamo la sua voce direi che è già utile Marco ci senti? Sì tu mi senti? perfetto ti sento benissimo avrei ancora un paio di domande Marco gentilmente allora cliente che mi dice sto ristrutturando un immobile sarà frazionato su due unità e mi dice su queste due unità cos'è che devo fare da un punto di vista della detrazione cos'è che mi è utile un generatore comune per i due appartamenti oppure metto un generatore per ogni appartamento bisogna vedere la situazione di partenza perché se questi due alloggi già hanno un impianto centralizzato ai fini del super bonus bisogna mantenere l'impianto centralizzato anche che se vado a separare un impianto centralizzato in più impianti autonomi perdo qualsiasi tipo di bonus anche il vecchio eco bonus è il 65 benissimo quindi se è già centralizzato deve rimanere centralizzato se non è centralizzato avrò la doppia scelta e poi dovrò vedere i relativi costi per vedere se ci sto dentro nei massimali giusto? giusto un'altra domanda che riguarda il day ce la fa Maurizio i famosi 650 euro al metro quadrato per i seramenti è un concetto superato quello del day sui seramenti che era l'unica voce oggettivamente un po' limitante? sì il day può essere superato in qualsiasi voce a patto di procedere all'analisi dei prezzi come si fa in tutti i lavori pubblici cioè dove non trovi una voce nel preziario laddove la voce non sia rimunerativa si può fare l'analisi dei prezzi partendo dal dal prezzo della materia prima fornito da tre costruttori da tre produttori in questo caso per esempio puoi scegliere i profilati metra i profilati finstra i profilati sciucco e dici ma quanto mi costa il profilato al metro quant'è il distanziale quant'è il vetro al metro quadro si compone il prezzo nelle sue voci elementari materiali mano d'opera utili di impresa oneri di smaltimento mano d'opera per il montaggio per lo smontaggio e tutto lì insomma si dimostra in modo analitico che i 600 euro a metro quadro per i serramenti di alluminio tante volte non è rispettabile ecco dopo Marco è anche vero che il tuo livello di competenza di preparazione di disponibilità nei confronti del cliente non è così comune noi sappiamo che non tutti i tuoi colleghi sarebbero disposti a fare questo rendiconto analitico dei costi o sbaglio è molto più comodo avere i prezzi già fatti da un preziario che sia il day che sia il preziario regionale si fa molto prima certo però la mia esperienza è che lavoro con due gruppi di lavoro con due general contractor in entrambi i casi si cerca di sfruttare al massimo i massimali perché altrimenti cosa succede per esempio sui serramenti ai 54 mila euro a disposizione è ben difficile raggiungere in un'abitazione i 54 mila euro ma applicando il preziario dei arrivi a 12 mila euro con 650 euro al metro quadro e devi chiedere 5, 6, 10 mila euro di extra al cliente mentre invece facendo l'analisi dei prezzi si sfrutta appieno il bonus il tetto del bonus messo a disposizione dello Stato certo Maurizio mi non sono stato chiaro no sei stato chiaro Maurizio mi dice ma questi conteggi potrebbero fare anche i serramentisti no? non è così giusto? allora i serramentisti sono di nostro supporto ma ci vuole sempre l'asseveratore che nel nostro caso è quasi sempre quello che redige i computi metrici quindi si dà un supporto pratico all'asseveratore per redigere il computo metrico con analisi di prezzi di tutto ciò che o non è presente nel preziario o ha dei prezzi del tutto insoddisfacenti e aggiungo anche per esempio nel fotovoltaico i preziari regionali non tengono conto dei pannelli attualmente presenti sul mercato addirittura del preziario dei fa riferimento ai pannelli da 250 watt al metro quadro che sono 7-8 anni che sono fuori produzione non si usano più certo non si usano non esistono più oggi si viaggia dai 450 ai 500 watt a pannello quindi bisogna per forza fare un'analisi di prezzi perché se no vai a prescrivere qualcosa che non esiste più sul mercato sei stato chiarissimo e ci stai dando veramente informazioni molto preziose Marco ci chiede Davide se non erro no forse non era Davide comunque la domanda era cambio faccio il capotto ma nei massimali rientrano anche tutto ciò che riguarda la soglia delle finestre tutti gli interventi che necessariamente devo fare per adeguare la struttura della casa al nuovo spessore del capotto sì certo chiaramente tutto l'ha chiarito la circolare 24e dell'agenzia delle entrate tutte le opere propedeutiche e accessorie chiaramente nel propedeutico e accessorio rientra ovviamente il ponteggio perché devo andare a posare il capotto in quota e rientra anche per esempio devo spostare le tubazioni presenti sulla facciata per esempio del gas metano i canali di gronda perché ci sono i canali che conducono le acque meteoriche dal tetto a terra le banchine che devo sostituire perché devono avere una sporgenza maggiore chiaramente tutte queste spese rientrano in massimali rientrano nelle spese finanziate fino ai massimali tutto ciò che sfora i massimali come ha specificato l'agenzia delle entrate non può beneficiare di altro bonus ascolta Michele Michele ci chiede questa è una domanda interessante sulla quale ci siamo confrontati tante volte Marco si acquista un edificio costituito da una sola unità immobiliare e l'ossifrazione in due poi si seguono i lavori su quante unità immobiliari si calcono i massimali voi te la senti o voi che risponda io allora qui abbiamo delle visioni un po' diverse però la posizione che mi sembra corretta da esporre sia io compro un immobile già frazionato a monte prima di fare l'atto quindi lo faccio frazionare al venditore non all'acquirente ok diciamo che non c'è nulla che vieta questo ma al tempo stesso non c'è neanche nulla che confermi che sia fattibile quindi se il frazionamento è fatto dal venditore quindi io acquisto e quindi due proprietari diversi acquistano gli immobili quando sono già frazionati credo che sia una cosa assolutamente conciliabile io Marco ti ringrazio molto ritornerei a a Giampietro per le ultime domande e sei stato veramente molto gentile Marco grazie rimango qua se ci fosse qualcosa ancora molto bene molto bene grazie allora io ho altri quesiti Giampiero che andiamo a vedere molto molto velocemente allora vediamo anche se i nostri i nostri ospiti li vorrei anche invitare a rispondere in chat a vedere se siamo stati chiari allora prima di Antonio dice vorrei sapere se il mio condominio il condominio dove un bar fa i lavori trainanti posso effettuare la sostituzione della caldaia e cambiare gli infissi del mio bar questa è la domanda aspetta aspetta vogliamo vedere se c'è qualche risposta di qualcuno particolarmente attento non arriva quindi darei a te la facile risposta sì in realtà l'abbiamo già detto prima quindi se per quanto riguarda diciamo se il condominio fa gli interventi trainanti e più del 50% è residenziale diciamo il bar accede al super bonus per quanto riguarda gli interventi trainanti ma per quanto riguarda quegli interventi che dicevano che sono trainati purtroppo non si applica il bonus 110% benissimo Saura ci chiede anche questo è semplice palazzina di 6 unità unico proprietario il proprietario accede alla 2 proprietà di 3 unità e quindi la situazione nuova è 2 proprietari con 3 appartamenti ciascuno possono accedere anche per i trainati evidentemente la risposta è solo nel limite delle 2 unità delle 2 unità quindi in questo caso se in famiglia sono in più di 2 devono frazionare devono frazionare devono fare delle cessioni di diritti reali su questi mobili ragazzi che fare 3 e 3 fanno 2 2 e 2 se ci sono familiari va bene e risolvono il problema prezzi stabiliti l'abbiamo visto e poi mi si viene chiedendo possono accedere il credito alla banca senza alcun costo io direi assolutamente sì addirittura la banca paga 102 quindi addirittura paga di più rispetto ai 100 la signora Maria ci chiede il discorso del frazionamento che abbiamo visto prima la suddivisione in 2 unità e il discorso del finanziamento con successiva eccessione del credito la stessa verifica la stessa della banca verifica preventivamente se la pratica corrisponde ai requisiti richiesti per l'accesso al super bonus anche la banca evidentemente interviene in questa verifica giusto? certo sì anche perché voglio dire di solito chi appone il visto di conformità che poi diciamo è utile per l'accessione del credito senza quello non si può cedere è uno degli attivamenti necessari diciamo il professionista che mette il visto di conformità lavora a stretto contatto con la banca quindi c'è un interscambio continuo di informazioni e quindi i documenti devono essere validi e devono essere validi per entrambi quindi sicuramente la convalida dei documenti deve essere fatta per forza anche dalla banca anche per forza perché poi è il soggetto che poi acquisisce il credito tra l'altro aggiungo che anche noi abbiamo un interlocutore in questo caso è Deloitte che assiste il cliente o il professionista meglio del cliente per quanto riguarda caricare tutti i documenti e integrare la documentazione fino ad arrivare alla chiusura del cerchio Eric ci chiede ma nel finanziamento ci sono altri costi sì il finanziamento è un costo il 2 il 3 il 4% però di fronte a questa operazione è irrilevante perché il costo del finanziamento è in funzione della durata dei lavori è espresso su base annua che sia il 2 o il 3 o il 4 quindi fondamentalmente dei 100 prendo 102 che poi alla fine rimangano 100,4 o 99,2 credo che il concetto è che comunque è un'operazione a costo zero poi credo che ripeto se debba avere quest'ordine di idee perché i costi del prefinanziamento non sono quantificabili perché evidentemente dipendono dalla durata dei lavori ma sono tali da non andare a inficiare la bontà della operazione Davide ci chiede un sito con tutte le normative potete andare sul sito di Banca Mediolanum sullo super bonus c'è tutto l'aspetto della normativa purtroppo come spesso capita le normative non solo non sono chiarissime ma necessitano tutta una serie di interventi e chiarimenti da parte dell'Enea e di parte dell'Agenzia delle Entrate quindi abbiamo una stratificazione a livello normativo che poi rende complessa anche l'interpretazione quindi è molto importante andare a vedere quelle norme ma io vi consiglio con la ricerca di Google sempre andare sotto notizie e quindi vedere se a livello di circolari o di chiarimenti poi ci sono cose che di volta in volta vengono smarcate una delle ultime smarcate ad esempio Giampiero mi viene in mente il discorso dei tetti che non sono confinati con superfici disperdenti tetti a falda che prima non erano inclusi sbaglio ora anche il tetto non riscaldato sostanzialmente non preclude l'accesso al 110% perché questa è una modifica che è stata introdotta nella registabilità perciò diciamo a qualsiasi condizione il tetto può essere rifatto e ridere il 110% Ok ci viene chiesto il fornitore fallisce chiude eventuali errori in buona fede o malasiede a chi vanno in capo quello evidentemente vanno in capo al committente quindi al proprietario della casa è chiaro che in questo caso farà fatica a fare una rivalza ai confronti del fornitore perché sarà assaltato io direi che la migliore assicurazione è quella di lavorare con gente seria di essere documentati informati e soprattutto di fare le cose fatte in genere mi permetto di dire ci sono tanti soggetti che sono nati adesso per fare questi interventi quindi tipo 110% SRL eccetera eccetera lasciamo passare cioè rivolgiamoci a soggetti che hanno una storia che sono sul mercato da anni e che ora fanno il 110% che rientrano la loro normale attività diciamo che fanno questi interventi da una vita ok allora sì c'è Marco che voleva aggiungere qualcosa puoi parlare Marco ti sentiamo sì sono ancora qui benissimo volevo aggiungere qualcosa all'isolamento del tetto a falde che confina con il sottotetto non riscaldato molto bene perché quella superficie non concorre al 25% del minimo necessario per accedere al super bonus cioè uno dei requisiti fondamentali per poter portare indietrazione come elemento trainante l'isolamento termico delle superfici opache è che io intervenga su almeno il 25% della superficie disperdente la superficie disperdente per definizione è un qualcosa che confina tra l'edificio riscaldato e l'esterno o tra l'edificio riscaldato e per esempio un vano scale non riscaldato quindi se la domanda è io devo rifare solo il tetto di casa mia che confina con un sottotetto riscaldato non riscaldato a quel punto la superficie disperdente su cui vado a intervenire è zero e non posso fare tolo quella roba lì vorrei che fosse chiaro questo passaggio ecco ok molto bene io direi la regia ci fa segno che è ora di chiudere ringrazio infinitamente Marco Mor per il contributo tecnico che ci ha dato ringrazio molto molto il dottore gugliotta per la disponibilità spero sia stata una serata interessante che abbia dato lo stimolo per riqualificare il nostro patrimonio immobiliare perché vuol dire valorizzare il nostro patrimonio se non lo vogliamo fare per noi facciamolo per i nostri figli e facciamolo anche per il pianeta ringrazio tutti grazie Giampiero grazie Marco e grazie a tutti i clienti e i prospect che hanno avuto l'opportunità stasera di seguirci e in alcuni casi anche di conoscere la nostra operatività e la nostra voglia di accompagnare i nostri clienti nella realizzazione dei loro sogni grazie a tutti buona serata